E' molto attento anche al tema della sicurezza. Si sta dicendo che probabilmente il clima delle statistiche di quanto anche quelli che sono in discussione dell'Europa può far aumentare la firmenza. Ognuno c'è chi purtroppo deve essere per il batterio di più arrivare a questo. Io non accetto di principio l'idea che qualcuno debba passare al lato oscuro della forza e diventare un delinquente parlamentare. Non lo accetto, penso che le persone oneste sanno a vivere i momenti di tecnologo onesto, e ce ne sono tantissimi. E a loro valgono rispetto. Cioè tante persone che volesse ricoltarci a perdere l'idea. Perché non bisogna accettarli di dire che sia legittimo a tutta la tua soglia del cuore. E invece in accettarli di tanto che sia uno Stato che non si rende conto di avere al proprio interno dei cittadini che non sono più in grado di dare la maggior parte. Lo dice una persona liberale, il centrale si dice una persona che pensa che la spesa pubblica è una ricotta. Ma per lui è una ricotta di trovare dopo la possibilità degli italiani di avere una dignità. E quindi in questo momento la priorità è di far sì che la gente che non se lo merita non vuole aiutare.